Sacchi di spazzatura, pneumatici, addirittura un televisore alle mie spalle qui a ridosso di Viale Mediterraneo a Macchia di Giarre. C'è una vera e propria discarica, cielo aperto. Il comune giarrese ha provveduto a interventi di bonifica, ma la gente continua a scaricare i propri rifiuti qui. Noi siamo intervenuti più volte. Voglio anche dire che noi abbiamo nel mese scorso fatto una denuncia contro i gnoti con il sindaco, perché questa vicenda, questa spirale deve prima o poi interrompersi. Il fatto che la stampa mette in evidenza che ci sono delle scariche a cielo aperto, questo non significa che noi svolgiamo un servizio a metà, perché la raccolta dei rifiuti solidi urbani noi la facciamo da un anno e sei mesi, esattamente, puntualmente ogni mattina, non c'è stato un solo disservizio, lo possono testimoniare i cittadini. Noi siamo parte resa in questa vicenda. Ci riteniamo offesi perché noi teniamo al decoro della città quanto quelli che lo denunciano. Nella stessa maniera forse anche più. L'amministrazione comunale di Giarre si considera parte offesa. Presto l'area, un terreno che appartiene a un privato, sarà recintata. Saranno inoltre installate le telecamere che riprenderanno coloro i quali perseverano nel malcostume. Questo è uno strumento di repressione, me ne rendo conto. In una città nella quale il senso civico dovrebbe essere più alto, questo è uno strumento che potrebbe essere superfluo e inutile. Così abbiamo pensato, ma ci siamo resi conti già diversi mesi fa che così non è. E c'è bisogno anche di questi strumenti per individuare chi scarica impunemente i rifiuti di casa proprio, o peggio ancora, quello della ditta della quale è titolare.